Questo programma è offerto da Tecnocampus Venerdì 12 aprile, buongiorno da Teleprima Anche oggi benvenuti a questa rassegna stampa come sempre offerta da Tecnocampus Vediamo anche in questa giornata, in questo nuovo giorno che ci porta verso il fine settimana Tanti fatti in primo piano ma cominciamo subito e senza dilungarci troppo in chiacchiere A vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali E questa mattina diamo il via a questa rassegna stampa Aprendo quello che è il quotidiano di Maurizio Belpietro, la verità E vediamo che cosa racconta in questa giornata Un testo bombas che scuote il Vaticano, gay nella Chiesa all'attacco del Papa Emerito Ratzinger prende carta e penna e denuncia i club omosessuali nei seminari E quella cultura per la quale la pedofilia è stata diagnosticata Come premessa e permessa e anche conveniente Per stabilire una volta per tutte che il bene e il male esistono Insomma, sembra davvero che secondo questa testata Il Papa Emerito abbia fatto un vero e proprio autogol a quella che è la Chiesa A quello che è il Vaticano Ma questo sembra davvero improponibile e soprattutto assurdo Comunque la situazione la vedremo nei particolari un poco alla volta Ma intanto continuiamo a vedere questa prima pagina In cui vediamo la risposta che comunque non viene data da Francesco E intanto ci pensa appunto Benedetto proprio per questa chiarezza E ancora un manifesto così profondo rilancia l'orgoglio della fede Il ritorno del gran teologo cambia gli equilibri in curia E se mi permettete l'unica cosa che vorrei sottolineare È che la bellezza della fede è proprio credere Senza il bisogno di dover attaccare Né tantomeno smascherare chissà chi o chissà cosa Anche perché la realtà della fede è proprio questa Manifestare la verità, non la propria verità ma quella che è la verità Facendolo semplicemente con amore, con chiarezza e sincerità E tutto questo viene appunto dal credere E ancora vediamo le altre notizie in primo piano Sospetti dei PM, Alessandra è indotta al suicidio Nel carteggio della donna con la clinica svizzera dell'Etonasi È enfatizzata una sindrome assolutamente curabile Il fratello ha la verità, una morte assurda, era sano Ha cercato di fermarli, ora dice voglio giustizia Ed ancora la pratica vietata per legge Benefit di Facebook ai dipendenti Il regalo, un bell'utero in affitto Anche questa una di quelle notizie che sicuramente faranno polemica Ma soprattutto lanciate in questo modo E intanto nella parte bassa della pagina Si parla ancora del buco nero che stravolge tutto Però sempre secondo la verità non cambia nulla Più che la teoria di Einstein Conferma le intuizioni di Dante e Leopardi E intanto vediamo che secondo Scruton che critica gli islamici Il governo inglese lo licenzia La libertà di parola, a quanto pare Secondo appunto questa testata E probabilmente rappresenta la verità È davvero in pericolo Ma ancora continuiamo a vedere le altre notizie In primo piano Ci spostiamo su Il Fatto Quotidiano E per risparmiare 200 milioni di euro Lo vediamo nella parte alta della pagina All'anno Sugli affitti che lo Stato paga ai privati Il tesoro spenderà 1,3 miliardi I paradossi della spending review E intanto vediamo nella parte alta della pagina Continuiamo a parlare di politica Giustizia, controllazione penale obbligatoria Inciucio, Forza Italia PD Reati lì decida chi governa Zando a braccio destro del segretario Zingaretti Si offre come sponda al progetto del forzista Vitali Ed ancora la ministra Se Salvini, De Luca in Campania Grillo contro Lega Vuole prendersi la sanità La titolare del ministero contro Il collega leghista Garavaglia Che aiuta il governatore Campano E intanto vediamo nella parte sinistra Altro che il ris Resiste l'amicizia fra Gigi e Matteo Primo Può l'amicizia tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini Essere l'autentico collante politico Di un'alleanza per tutto il resto anomala Questo è l'interrogativo di questo giorno Che si pone proprio fatto quotidiano E che giriamo anche a voi come domanda Ovviamente dopo tutto quello che abbiamo visto Nei giorni scorsi I dibattiti Gli scontri Anche gli scontri politici Ma soprattutto Le varie vicissitudini Che hanno portato proprio i due vice premier A lottare l'uno talvolta anche contro l'altro La situazione si presenta però Sempre in maniera costante E soprattutto in sostegno l'uno dell'altro E la domanda che si pone proprio fatto quotidiano è questo Può essere che il nostro governo va avanti Per un'amicizia intrinseca tra i due E anche se fosse Insomma questo è l'interrogativo che ci poniamo oggi Ma continuiamo a vedere i fatti in primo piano Delitto di cronaca Sgominato il nemico pubblico numero uno dei potenti Giuliana Assange Creatore di Wikileaks Arrestato a Londra Lo vogliono gli USA E ancora vediamo E finito subito in tribunale Le accuse di violenza sessuale E l'allergia dei governi alla verità E intanto il suo avvocato americano Messaggio a tutta la stampa Mai più segreto sulle fonti E nella parte bassa della pagina Oltre il selfie c'è di più Ovviamente usiamo le canzoni passate Proprio per fare i titoli Secondo appunto Questa testata Rimedio ha il tic di 8 secondi Per opera All'elogio dello slow looking E ha infatti A Tate di Londra Si è raccolta che i visitatori La Tate di Londra Si è raccolta che i visitatori Guardano le opere esposte Per non più di 8 secondi E perciò nel giubilo Degli ambienti intellettuali Irrispettabili Ha prontato una guida Allo slow looking Sguardo proprio lento Sul filone molto sofisticato Dello slow food Chiediamo subito La fruizione distratta È una colpa del visitatore In parte sì Da quando al cospetto Di dipinti e monumenti Ci lasciamo nevrotizzare Dalla bramosia testimoniale Dei selfie Eppure Ed è però Spesso sono gli stessi Curatori di mostra A incoraggiare Questa velocità Scusate Che viene definita Proprio abbuffata Bulimica Ad opere d'arte Radunate insieme Secondo logiche Puramente pubblicitarie Insomma La realtà è che Comunque viviamo In un mondo Dominato dal click E soprattutto Dominato Veramente Dalla velocità Di tutti i movimenti Ma soprattutto Dalla velocità Di azione E di pensiero E forse La nostra arte Ma in generale L'arte di tutti i tempi Meriterebbe Quella calma E quella pacatezza Che forse Non riusciamo più A dedicarci E allora ecco Che tornano in vigore Lo slow food Tutto ciò Che è associato Alla lentezza E diventa questo Un vero e proprio Stile di vita Probabilmente Non servirà Uno stile di vita Ma semplicemente Una presa di coscienza Che ovviamente Respirare Mentre si fanno le cose Non è poi così male E ancora ci spostiamo Sul libero Realtà che batte Il pessimismo L'Italia fa schifo Ma la sua borsa È regina È regina d'Europa Il pil balbetta Tuttavia Piazza Fari È seconda Al mondo Per rendimento Nonostante Il movimento 5 stelle E ancora Vediamo Emiliano Sbotta Contro le inchieste Dei giudici Finalmente Un politico Che denuncia IPM È ancora scartata Da tutti Rischia di distrarre I clienti Troppo bella A quanto pare Non deve fare La bagnina È la ragazza Che è saltata È salita Alla ribalta Delle cronache Nei giorni scorsi Proprio perché Avendo Il patentino Se così si può definire Di bagnina Che cosa ha fatto Ha chiesto Ha inviato Il proprio curriculum A varie aziende Per poter lavorare Proprio come Salva vita Diciamo In questo modo Però L'è stato detto Assolutamente no Perché se è troppo bella Rischieresti Di creare Confusione E soprattutto Attirare troppo L'attenzione E questo Dimenterebbe pericoloso Insomma Dopo che Tutta questa Vicenda È balzata Alle cronache Che cosa è accaduto Che ha ricevuto Richieste Di collaborazione Proprio da quelle Attività Che prima Gli avevano negate Insomma Sembra sempre più Che le scuse All'ordine del giorno Siano tantissime Ma forse Smettere di tacere Quando avvengono Queste cose Premia E ancora Vediamo gli altri fatti E vediamo Eccoci qua La pausini Le suone Ai ladri Nei cimiteri Rubano i fiori Dalla tomba Della mia nipotina Una vicenda Che ovviamente Non riguarda solo La cantante Ma riguarda tutti I noi da vicino Che ormai Sembra quasi Che le razzie All'interno dei cimiteri Siano sempre più All'ordine del giorno Si ruba di tutto Addirittura Le pile All'interno dei lumini Quasi come Avessero Come se avessero Un costo Talmente elevato Da non poterne fare a meno Insomma Vengono depredati Ovviamente Non i defunti Perché i defunti Hanno già trovato Casa altrove Ma sicuramente Tutto ciò Che noi Essere umani Credendo che Quello ci plachi Il dolore Facciamo per Omaggiare Chi non c'è più Eppure Adesso Viene fuori Questo allarme E per l'ennesima volta Vediamo Che ci troviamo Vicini a chi Comunque Rappresenta Il pubblico Ossia un VIP E ancora Vediamo Sondaggio Sfiora il 50% Il tasso di rabbia Verso Bruxelles Mezza Unione Europea Non ne può più Della stessa Unione Europea E ancora vediamo Nella parte bassa Della pagina Ratzinger La redazione La reazione di Francesco San Benedetto La verità Sul 68 Il Papa Emerito Denuncia L'ipocrisia Della Chiesa Sulla pedofilia Ed ancora Vediamo Le altre notizie In primo piano Manette per Mr. Wikileaks Nell'editoriale di Sallusti Assange Ladro E spia Assolutamente Non eroe E nella parte centrale Della pagina Andiamo ad esaminare L'articolo di apertura Altra mazzata Tasse record Sugli stipendi Italia Tra i primi paesi Al mondo Per costo del lavoro E sulla Libia Nuovo scontro Con la Francia E ancora Vediamo Favori clandestini Lucano Alla sbarra A processo L'idolo Della sinistra E vediamo Ancora Tragica ricetta Dell'Inps Per lavorare Tutti di meno Queste sono quelle Che definisce Questa testata Ossessioni Giallo-verdi Ed ancora I dialoghi assurdi Ormai sembriamo Davvero Delle macchine Che comunicano Con altre macchine Se Alex è intelligente Ma un po' ignorante E infatti Chiedo scusa Ma scriverò Di fatti Molto personale E quindi Sono costretta All'uso Della prima Persona singolare Per venire subito Alla pianto Ho litigato Con la mia Fidanzata Alexa All'intelligenza Artificiale Che utilizzo Principalmente Come sveglia Maggiordomo Accendere la tv Spegnere la luce E l'impianto stereo Le ho chiesto Quali canali televisivi Trasmettessero La Champions League Alexa Ci ha pensato Un attimo E mi ha risposto Non conosco La risposta Alla domanda Le ho fatto notare Che era disinformata Con parole poco gentili Lo ammetto Alexa Si è offesa E così mi ha detto La vera cultura Non è conoscere Le risposte Ma sapere Porre le domande Giuste E insomma Una bella lezione di vita A quanto pare Proprio in relazione A un'intelligenza artificiale Che sembra voler dare Non sempre tutte le risposte Ma specificare Che la cultura Va ben oltre Quelle che sono le risposte L'importante è sapere La domanda da porre E ancora vediamo Nella parte bassa Della pagina In un libro I segreti Dei giornalisti Di Viano Mazzini La dura vita Da direttore Del TG Scusate TG1 E lo vediamo Da Paolo Bracalini Nell'articolo Di piede E ancora Ci spostiamo Su un'altra testata E andiamo a vedere Questa mattina Il tempo Cosa ci racconta La via della seta Frega già l'Italia La Cina Ha girato I dazi europei E ha spostato La produzione Di acciaio In Indonesia Da lì Esporta in mezzo Europa Con il 30% di sconto E ora Mette nei guai Anche la ST Di Terni Ancora Vediamo Sempre da questa Prima pagina La Tria Deve trovare Un tesoretto Da 23 miliardi Per disindescare IVA E anche Accise Ed ancora Vediamo Matteo Sindaco del Carroccio Perché no Ira grillina Salvini marcia Sul Campidoglio Guerra Lega Movimento 5 Stelle Pure a Roma E intanto Vediamo la tragedia Sulla Colombo A 11 anni Mori in auto Con la madre Questa è una brutta Definizione E purtroppo Un brutto accadimento Dopo le nostre denunce Telecamere su Pontina E Cassi Abiss Proprio per evitare Ulteriori incidenti E ancora Vediamo Nella parte sinistra Della pagina Pillon si becca La condanna Dovrà ora Risarcire La Ciguei E nella parte bassa Della pagina Vediamo Che cosa accade Proprio Da queste pagine Vediamo Che cosa accade A Roma Weekend elettrico Con la formula E infatti È tutto pronto Per il secondo Appuntamento Con la formula Siamo nella parte bassa Nella parte bassa Azzeccatissima E quindi Una vittoria E ancora Nella parte destra Della pagina Ecco qua Ciao Angelo Nostro fratello Di redazione La scomparsa Del giornalista Intanto Nella parte bassa Della pagina Assange Ha arrestato A Londra Dopo sette anni Gli USA Adesso Vogliono L'estradizione E per quanto riguarda Le notizie che arrivano Dalle testate nazionali Continueremo subito dopo Un piccolo e brevissimo Un momento di pubblicità Lo prometto E intanto Voi riposatevi Ci vediamo subito dopo Non andate via Un momento di pubblicità All'incrocio tra Caserta e il futuro È nato Tecnocampus Un centro direzionale moderno Frutto di un ambizioso progetto Di riqualificazione industriale Che ha messo la qualità del lavoro Al primo posto Tecnocampus Il nuovo centro direzionale di Caserta È collegato direttamente All'A30 Caserta Salerno E dista pochi minuti Dal centro di Caserta Tecnocampus SRL Viale Lincoln Zona industriale Ex San Goben Caserta Tecnocampus La soluzione al centro Ben tornati in studio Siamo pronti per affrontare Ancora una volta Le notizie che arrivano Dal nostro territorio nazionale E lo facciamo anche questa mattina Con tutte le testate nazionali Che rappresentano Un momento di alta informazione E soprattutto ci raccontano Quelli che sono i fatti In primo piano E continuiamo in questo momento A sfogliare i quotidiani nazionali E ripartiamo dalla prima pagina Del Corriere della Sera E vediamo infatti Quelli che sono i momenti Più eclatanti da questa pagina Le tasse sul lavoro Crescono ancora Si guadagna meno I dati OXE Tre coperture ingenti Per il DEF E intanto Confindustria Boccia Di Maio Le conversioni parallele Sembrava infatti Uno di noi Così il presidente Di Confindustria Vincenzo Boccia Dopo l'intervento Del vice premier Luigi Di Maio Al salone del mobile Arroa Fiera Non è affatto vero Che più litiga con il governo Più un presidente Dimostra la sua leadership Ma detto questo L'incoerenza di Boccia Colpisce Di Maio L'avversario della TAV Il ministro degli eco bonus Il politico Che ha definito Gli industriali Come i prenditori Capiremo presto I motivi Di queste conversioni Appunto E quanto racconta Da queste pagine Il Di Vico Dario Di Vico Che comunque Commenta in maniera Molto negativa Questo cambio di posizione Ed ancora Vediamo noi E l'Europa Si parla ancora di Brexit E infatti Risultiamo stretti Tra Brexit e Macron La decisione del Consiglio europeo Di spostare Al 31 ottobre Ma non oltre La scadenza Per un'eventuale uscita Del Regno Unito Dall'Unione Europea E' stata fortemente Voluta da Emmanuel Macron E il presidente francese Infatti non vuole Che il primo ministro Britannico Di un paese Che fra pochi mesi Potrebbe essere fuori Dall'Unione Europea Partecipa alla scelta Di chi guiderà l'Europa Dopo le elezioni di maggio E cioè Il presidente Della commissione Presidente del Consiglio europeo E l'alto Commissario Per la politica Extra E della sicurezza Posizione oggi ricoperta Da Federica Mogherini E quindi è possibile Che queste scelte Avvengano Non prima dell'autunno Quando sarà scaduto L'ultimatum Al Regno Unito E si saprà con certezza Se è dentro O fuori dall'Europa E soprattutto In che modo Ma ancora vediamo Nella parte centrale Di questa pagina Una fotonotizia Londra era da sette anni Nell'ambasciata Dell'Ecuador E adesso Parliamo di Assange L'arresto E i misteri Dopo sette anni Infatti Finisce la prigionia Adorata Di Julian Assange La politica E la polizia straniera L'hanno arrestato Dopo un blitz Nell'ambasciata Dell'Ecuador Dove il fondatore Di Wikileaks Si era in realtà Rifugiato Ed ancora Visto da Washington Spie Dossier Veleni L'effetto di Wikileaks Sulla Casa Bianca Che adesso Vuole l'estradizione E ancora Vediamo Per quanto riguarda L'Italia L'inchiesta Il sindaco Lucano Rinviato a giudizio Per l'accoglienza Di migranti A processo Il modello Riace Mimo Lucano Infatti Sindaco sospeso Di Riace E' stato rinviato A giudizio Doverà comparire Damanti al tribunale Di Locri Con l'accusa Di associazione A delinquere Truffa Abuso E bassa Della pagina Vediamo L'articolo Di piede Tutto dedicato Da Gramellini Al binario triste E solitario E dice Quando nell'estate Del 2016 Altri treni Pendolari pugliesi Si scontrarono Tra Andia E Corato Lasciando Tra le lamiere Decine di morti Il coro Il coro unanime Fu Mai più Mai più Sarebbe assistito Allo sconcio Di una linea ferroviaria Composta da un solo binario Dove per scongiurare Un frontale Ci si riduce A confinare Nel buon esito Delle comunicazioni Telefoniche Tra i capi stazione All'ombra Di nomi Roboanti Partono i lavori Per il raddoppio Dei binari Ed era tale Il bisogno Di distrarsi Con qualche buona notizia Che tutti finsero Di dimenticare Che il raddoppio Avrebbe già dovuto Essere ultimato Pensate un po' Due anni prima Della tragedia L'inaugurazione Di questa tab In miniatura Fu inderogabilmente Fissata per l'agosto 2017 E poi altrettanto Inderogabilmente Per il novembre 2018 Ma il turbinio Di passaggi Burocratici Che inchiodano Ogni piccolo Grande opera italiana La famosa analisi Costi Malifici Per cui ogni valutazione Va rivalutata E ogni validazione Rivalidata Dall'organo Competente A dichiarare La propria incompetenza Ci ha portato Fino alla luminosa Giornata di ieri Quando in corte d'assise È cominciato il processo I pendolari Superstiti Sono tornati a viaggiare Sulla vecchia linea Ancora binario unico Naturalmente Affinché non si dica Che da noi I responsabili Di un disservizio Agiscono solo Sulla spinta Delle emozioni Ormai non bastano Nemmeno più quelle E questa è la realtà Che viene raccontata Da questa prima pagina Proprio per lamentare Ma non solo lamentare Anche per andare Ad esaminare Quelle che sono Le scelte Che troppo spesso Vengono fatte In maniera poco attenta E sbagliata In relazione Alla vita E alla salute Di chiunque E ancora vediamo Gli altri fatti In primo piano Andiamo a vedere Che cosa ci racconta Questa mattina Il messaggero E vediamo Che nella parte alta Si parla della pagina Si parla della denuncia Di Ratzinger Che spiazza il Vaticano Pedofilia deriva Dal 68 E veramente Sconcerto e sorpresa Tra le gerarchie Per le accuse Di Benedetto XVI Agli abusi Ed ancora Vediamo Nella parte alta Della pagina Trio Tria Necessario tagliare L'IRPEF Infatti viene fatta Un'intervista A Tria Il ministro dell'economia Ed è giusto Intervenire Per i centimetri Con la flat tax E l'IVA per le coperture Ipotesi virtuosa Ma decide la politica Sblocca cantieri Con 87 miliardi Quindi Quello Che comunque Appare evidente Che comunque Anche la flat tax È uno di quei rimedi Che saranno Applicati In autunno Ma sicuramente Bisogna stare attenti Alle coperture Ed ancora L'interesse italiano La linea rossa Che non può essere Varcata Sulla Libia E viene raccontato Nell'editoriale Di questa mattina E vediamo Bloccato Nell'ambasciata Dell'Equador USA Estradatelo L'arresto Di Assange A Londra Il caso Protezione E la fuga Ancora una volta Fallita E intanto Vediamo Nella parte destra L'assedio A Tripoli Riaccende La miccia Tra Italia E Francia Salvini Attacca Parigi Per il sostegno Ad Aftar Attenzione Con Conte Poi L'alto là Dell'Unione Europea Al generale Intanto Il caso Riace Lucano A processo Favori Ai clandestini Nella parte bassa La morte del bimbo Nel traffico A Roma Per un attacco D'asma Questa è la vicenda Che proprio In queste ore Ci ha tenuto Con Veramente Con la bocca aperta Proprio perché Sono quelle situazioni A cui non si può Porre rimedio Proprio causate Dalla situazione Sempre più precaria Di un traffico In mane E ancora vediamo Il mattino Nella prima pagina L'arresto a Londra Assange Scaricato dall'Equador Il guru Di Wikileaks Verso l'estradizione Intanto Vediamo che La mostra di Caravaggio Diventa Superstar Assalto a Capodimonte Nella magia Di Google Art E la vediamo Proprio in questa immagine Intanto Otspetek Porta l'amore in scena Con la Butterfly Al San Carlo E intanto Vediamo le notizie Che questa mattina Ci lasciano Senza parole La vediamo direttamente Partiamo proprio Dallo sport Europa League L'Arsenal Dominal San Paolo Serve l'impresa La resa di Londra Napoli spento Si salva solo Meret E purtroppo Questo è stato Un colpo basso Proprio per il Napoli Ancora vediamo Nella parte sinistra Della pagina Invece Continuiamo a parlare Di politica Taglio IRPEF Necessario Dai cantieri 87 miliardi L'intervista L'intervista Tria L'IVA Preferiscono Le imposte Spostate Sui consumi Certo medio Penalizzato Dal fiscal Drag E infatti Il taglio Del IRPEF È un atto Di giustizia Necessario Soprattutto Per i ceti Medi Troppo a lungo Paralizzati Dal fiscal Drag E quanto Spiega Appunto In questa Intervista Il ministro Dell'economia Giovanni Tria Che aggiunge L'IVA Preferiscono Le imposte Spostate Sui consumi Sarà La politica Decidere E dallo Sblocca Cantieri Avremo 87 miliardi Ed ancora Vediamo L'analisi Il calo Del reddito Si frena Con meno Tasse Sul lavoro Insomma È questo Che dovrebbe Portare Effettivamente Ad un aumento Di quella Che è poi La possibilità Di spendere E quindi Un rialzo Del commercio E delle finanze E ancora Vediamo Nella parte Destra Della pagina La visita Mattarella Torna a Napoli Tra arte Ed emergenza Infatti Mattarella Torna proprio A Napoli E lo fa In un momento Delicato Per la città E i suoi abitanti Ancora scossi Dal brutale Delitto Di Camorra Del rione Villa Il presidente Della Repubblica Arriverà All'ombra Del Vesuvio Stasera E domani Si recherà Al museo Di Capodimonte Per la mostra Su Caravaggio Insomma Le mamme Dell'asilo Di San Giovanni A Teduccio Avevano proprio Invocato La presenza Di Mattarella A Napoli Che avevano chiesto Il suo aiuto Proprio perché Si sentivano E si sentono Abbandonate Dallo Stato Adesso Il presidente Verrà a Napoli Lo farà Questa sera Ma ovviamente Per più Di una ragione E vediamo Infatti Lo sfogo Di una madre Arione Villa Hanno ucciso Anche mio fratello Ora dico Basta E infatti Dice Sono nata E cresciuta Qui Ma ormai Questo Di San Giovanni Non è più Il quartiere Di quando Io ero bambina Ho perso Un fratello Che incensurato E' stato Ammazzato Dalla Camorra La sua morte Mi ha spinto A tutelare I miei figli E tenerli Lontani Dalla strada Anna Il nome di fantasia Che viene usato Dal mattino Oggi Napoletana 26 anni E' madre Di 4 bambini E' una delle Firmataria Della lettera Di appello Proprio lanciata E inviata Al presidente Mattarella E ancora Vediamo Nella parte bassa Le mafie Dimenticate I colletti Bianchi Dei casalesi E gli affari Sporchi Senza sangue Casalesi Sono ancora attivi Guai a considerarli Finiti Va colpita La borghesia Mafiosa E questo è il monito Di Caffiero De Rao Che è di settimane Fa E le inchieste Dimostrano Che l'SOS E' quanto mai Attuale Con i clan Di caserta Impegnati A far soldi Piuttosto che A sparare In Italia Ma anche In Romania E in Meggiugori Con mani Negli appalti Delle ferrovie Nelle ultime elezioni Regionali E ovunque Quindi è la piovra Casalesi S-Pia Insomma Un allarme Che non ci lascia indifferenti Anzi Ci fa tremare i polsi Proprio in una situazione Che sembra sempre Essere più articolata E difficile E ancora vediamo Il caso Libia Il trafficante di migranti Tra le fila di Sarrai Trafficanti libici di migranti Combattono Aftar Hanno timore Che con l'arrivo Del generale di Tripoli Possa finire Il business in atto Tra loro c'è anche il famigerato Al Milad Ricercato per crimini Contro l'umanità E ancora Ci spostiamo Su un'altra testata nazionale Andiamo a vedere Questa mattina Il manifesto Come riporta i fatti E vediamo Che nell'articolo di apertura Si parla Della trappola Ed ecco Vediamo un'immagine Che è abbastanza eloquente Di Julian Assange È stato arrestato Nell'ambasciata Dell'Equador A Londra E ora rischia L'estradizione Negli USA Per i suoi regali È un serio precedente Per il giornalismo Personaggio controverso Ma con Wikileaks È riuscito a diffondere I segreti E a denunciare Le atrocità Dei potenti E nella parte bassa Della pagina La Brexit Rimandata ad Halloween Questa è la decisione Del Consiglio Europeo E qui Londra May La scampa Un'altra volta E a quanto pare Il tempo Parà ancora Da padrone E quindi Determinerà Che cosa Accadrà Di questa Gran Bretagna Ancora ci spostiamo Sulla stampa Arrestato Assange Gli USA A caccia E nuove pensioni Che in realtà Spingono Il debito E il reddito Di cittadinanza Falle nella rete Di controlli Ancora una volta E ancora Vediamo Sempre in questa prima pagina Boccia Accelerare Sulla crescita Intanto Vediamo Per lo sviluppo Il bonus sud Sostiene gli investimenti Ma la proroga Resta incerta Intanto Unicredit Nel mirino Dell'antitrust MPS Il dossier Dalmef No ad azioni Contro gli ex Vertici Intanto Vediamo Nella parte bassa Della pagina Forfe Un anno senza rischi Per chi ha il controllo Di una SRL Continuiamo ancora A vedere La parte economica Di questa mattina In Italia Oggi Lo scambio Di dati fiscali Rende Grazie alle informazioni Arrivate dagli altri paesi Le entrate Hanno inviato Le prime 7.000 Lettere di contestazione Incassando Più di un milione Di euro E ancora Vediamo Che le elezioni europee Hanno frantumato La sinistra italiana Facendo scoppiare L'EU E intanto Nel medioevo La Cina Stava già Sognando Il mare adriatico Ancora Vediamo Nella parte bassa Della pagina L'evasore Medio E maschio Poco istruito Straniero E non religioso Secondo I piani E secondo L'affermazione Che viene fatta Da questo quotidiano Nella giornata Di oggi Insomma Secondo le statistiche Questo rappresenta L'evasore Medio Ma ancora Ci spostiamo Sulla parte sportiva E vediamo CR7 Come te Non c'è Nessuno A dirlo È il Corriere dello Sport Ronaldo Superman Nei confronti Diretti Addirittura 64 gol Velasco e Campagna Allenatore in campo Con volontà Feroce E ancora Vediamo Che sempre In questa prima pagina L'intervista esclusiva Ericsson Che noia Da voi Vince solo La Juve Troppo forti Così la Serie A E sempre scontata Meglio La Premier Intanto Nella parte centrale Della pagina Un Napoli Imbarazzante Ma c'è ancora Una speranza 2-0 La nuttata Azzurri colpiti A freddo Da Ramsey E da un autogol Di Koulibaly Arsenal Sempre padrone Del gioco Ed ancora Vediamo Un'altra testata Dedicata allo sport Napoli Sulla testa Lo dice tutto sport Europa League Andata a quarti Il futuro bianconero Ramsey E un autogol Di Koulibaly Lanciano L'Arsenal 2-0 Ma non è finita Felix Triplette Ruben Diaz Trascinano Il Benfica Con l'Eintracht Paratici Osserva E intanto Nella parte centrale Della pagina Con lui Ronaldo Ha confermato Ad Amsterdam Di essere Il Marziano Che può trascinare La Juve Alla conquista Della Champions Domani un punto A Ferrara Ed è scudetto Cresce intanto L'ottimismo Per il recupero Di Emre Can Nel ritorno Con l'Ajax Resta un inabilico Adesso Solo Chiellini E per quanto riguarda La prima parte Di questa rassegna stampa È tutto Vi lascio adesso Qualche attimo Di pubblicità Ritorniamo subito dopo E andiamo a vedere Attraverso i quotidiani Online I fatti Della regione Campania Ci vediamo fra poco E andiamo a vedere Grazie a tutti. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta è collegato direttamente alla 30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale ex San Goben Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Ben tornati, vi ricordo sempre che è venerdì 12 aprile, anche questa mattina continuiamo con i fatti che riguardano la regione Campania e partiamo proprio da Napoli dove è attesa l'improvvisa visita di Mattarella. E infatti vediamo proprio l'appello delle mamme anti Camorra e proprio in relazione a questo appuntamento di oggi. Mattarella torna a Napoli, lo fa in un momento delicato per la città, infatti il Presidente della Repubblica arriverà all'ombra del Vesuvio stasera dopo il viaggio in Giordania. E domani, accompagnato dal Presidente della Camera Roberto Fico, si recherà al Museo di Capodimonte che ospita sei capolavori di Caravaggio, a cui se ne aggiunge un altro. La tela delle sette opere di misericordia è rimasta al Pio Monte dopo il diniego al trasferimento da parte del Ministero dei Beni Culturali Capo di Stato. Aveva già in programma di fare tappa nel capoluogo partenopeo per visitare la mostra di Caravaggio al Museo di Capodimonte, ma il Quirinale non aveva ancora fissato una data. Poi ieri con il Presidente ancora impegnato in Medio Oriente è filtrata proprio la notizia del suo arrivo. Insomma, risponde in questo modo all'appello delle mamme e ovviamente si dichiara pronto a quello che è un dialogo importante. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano. Ancora cronaca. Crollo del Ponte Morandi, Laura Battiloro canta per il fratello Giovanni e le altre vittime. Infatti un videoclip lanciato online appena due giorni fa che è già diventato virale sui social network e sta commuovendo il popolo della rete. E piove sulla mia anima, brano che Laura Battiloro dedica al fratello Giovanni ma anche a tutte le vittime del Ponte Morandi, corollato il 14 agosto 2018 a Genova. Al momento della tragedia Giovanni, giornalista e operatore video, era in macchina con altri tre amici Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stazione. I quattro ragazzi erano partiti da Torre del Greco, la loro città, per trascorrere un periodo di vacanza in Calabria. Poi all'altezza di Ponte Cagnano c'era stato un cambio di rotta dettato dall'idea di rendere più elettrizzante il loro viaggio. Avrebbero dovuto trascorrere Ferragosto in Costa Azzurra e raggiungere Barcellona poi nei giorni successivi. Ovviamente i piani sono andati male proprio in seguito al crollo di questo ponte che ha determinato la loro morte e quindi l'impossibilità a realizzare qualsiasi piano. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano. Ancora cronaca, cardito ucciso di botte dal patrigno, maestre indifferenti al suo dolore. Insomma questo è l'appello che viene lanciato proprio da questa testata e questa è l'attenzione che viene dedicata proprio a una vicenda che ci ha lasciati tutti i sgomenti. Ovviamente quando le maestre non si rendono conto o non vogliono rendersi conto di ciò che accade la situazione diventa sempre peggiore. Insomma questo è quello che racconta il mattino. Infatti posso parlare, sicuro che posso parlare, non è che mi arrestate, perché dovresti essere arrestata? Le chiedono medici ed inquirenti. Me lo diceva sempre di non parlare, di non dire niente, che ci avrebbero arrestato. A inizio così infatti il racconto della piccola sopravvissuta che pensate un po' ha compiuto solo otto anni a marzo di quell'inferno domestico in cui ha trovato la morte il piccolo Giuseppe che aveva a sua volta sette anni. In una maledetta domenica in cui si è trovato proprio vittima del patrigno il gennaio scorso. Ha gli occhi tumefatti, labbra livide dalle botte, ma si libera. Mamma non faceva niente, non faceva niente. Lui picchiava e lei niente. Per questo la mamma è stata infatti arrestata. Un raccontatroce che dà la stura alle indagini costate in carcere proprio a Valentina Casa. La madre innaturale che ha consentito al convivente di massacrare il figlio e che ha cercato di ripulire ciocche di capelli e sangue per non aggravare la posizione dell'essere maschile con cui aveva scelto di convivere. Oltre a provare ad inquinare le prove nei giorni successivi, l'omicidio del piccolo Giuseppe. Insomma queste sono le confessioni, questi sono i drammi che hanno riguardato questa famiglia e tutta la situazione che alla fine ha portato alla morte di una piccola anima innocente. Ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano, ci spostiamo adesso sulla Repubblica e andiamo a vedere appunto che cosa racconta in questa giornata. E vediamo infatti Masullo. La camorra è un cancro, si vince con una task force straordinaria dell'istruzione. E sembra proprio questo il punto del filosofo che compie 96 anni con una cerimonia in comune. Se ha un sogno, dice che il rispetto, nel senso vero del termine che il latino serve a indicare alla relazione, diventi il centro della nuova civiltà. Il professore Aldo Masullo, compie oggi 96 anni, filosofo con lo sguardo oltre le pochezze, le cui parole illuminano le coscienze e sbrodiano il ginepraio della modernità, viene festeggiato a Palazzo San Giacomo questa mattina, non senza qualche imbarazzo, per una cerimonia voluta da un'amministrazione di cui dice non condivido tutto, ma a una cortesia non si può che rispondere con cortesia e dunque ne sono contento. Anche perché sono certo che l'idea è venuta a Nino Danieri, una persona cara, un vecchio allievo cui mi lega affetto autentico. Gli sono grato per l'attenzione affettuosa e ne apprezzo il lavoro da assessore alla cultura in una città che in realtà è disastrata. Appunto queste le parole di Masullo. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano. Ancora una volta dalla Repubblica Emergenza a Fiume Sarno, gli studenti di 60 scuole però non ci stanno e si mobilitano. Infatti l'appuntamento è per lunedì 15 aprile alle 11 presso il liceo scientifico Caccioppoli di Scafati, dove si terrà un incontro a cui sono stati invitati i sindaci di 33 comuni, ma anche i parroci, i presidenti delle associazioni e soprattutto gli studenti. E infatti si parla per l'ennesima volta di emergenza ambientale del Fiume Sarno e gli studenti si autoconvocano per sensibilizzare i cittadini. E infatti è proprio questo che accade e ancora una volta sono gli stessi ragazzi che non si lasciano spaventare da quelle che sono le immobilitazioni, ma anzi fanno il possibile affinché queste diventino operative e soprattutto motore per cambiare una situazione sempre più complicata. E ancora vediamo le altre notizie che arrivano questa mattina da Caserta News. L'architetto, lo storico ed il manager 3 in corsa per la regione e per la reggia di Caserta. Individuata infatti la terna da sottoporre al ministro Bonisoli per il manager che andrà a ricoprire il ruolo di direttore di Palazzo Reale. E infatti vediamo che un funzionario ministeriale esperto in turismo, lo storico dell'arte ed una docente universitaria specializzata in comunicazione dei beni culturali è infatti corsa 3 per la direzione della reggia di Caserta con la posizione di comando assunta ad interim dal dirigente ministeriale Antonio Lampis dopo l'addio per pensionamento di Mauro Felicori oggi alla guida della fondazione Ravello tra tre profili professionali diversi quindi con esperienze e competenze differenti eppure dopo i colloqui del 3, 4 e 5 aprile sono rimasti in lizza a comporre la terna di cui il ministro Alberto Bonisoli dovrà scegliere il futuro manager del sito Vambitelliano Casertano. In corsa infatti ci sono Mario Epifani, storico dell'arte, Francesco Palumbo, direttore dell'agenzia regionale del turismo in Toscana, Tiziana Maffei, architetto e docente universitaria di comunicazione dei beni culturali all'Università di Bologna adesso la parola spetta a Bonisoli che entro il 22 maggio nominerà il nuovo direttore di Palazzo Reale e noi attendiamo appunto che avvenga questa nomina e soprattutto siamo curiosi di vedere che cosa accadrà di questo nostro monumento qual è appunto la reggia vambitelliana. E ancora andiamo a vedere le altre testate online, andiamo a vedere questa mattina anche il Corriere di San Nicola dove vediamo un dolore che ha colpito l'intera città di Caserta ma anche quella di San Nicola per la mancanza di una bimba Chiara che nella giornata di ieri è proprio volata in cielo. Infatti affidiamo le parole al papà che dice Per Chiara infatti papà Michele e mamma Monica che hanno inventato di tutto per affrontare con il sorriso la sua disabilità parlandone senza mai nascondersi per aiutare chi avesse bisogno di capire. Per Chiara grazie al suo papà e alla sua mamma sono nate associazioni, si sono aperti i teatri e si sono scritti libri. A Chiara e ai suoi amici del cuore è stata dedicata un'area giochi inclusiva. Chiara che non ha mai parlato e non ha mai potuto scrivere. Detto però una lettera a suo papà attraverso i suoi sguardi, una lettera in cui volle dire grazie alla sua scuola per l'amore quotidianamente ricevuto. Chiara è una bambina disabile, cerebroresa, con patologia rientrante tra le malattie rare. Chiara nacque a Caserta il 14 dicembre 2008 a seguito del distacco di placente e soffriva di epilessia a spasmi, farmacoresistente con caratteristiche di sindrome di Leno-Gastaud e aveva crisi giornaliere, soffriva di paralisi cerebrale infantile di tipo tetraplegico e ritardo globale nello sviluppo neuropsichico, non parlava, non camminava e soffriva. Però Michele, il papà, cerca da sempre di cavarsela così a madire tra il lavoro artistico e la famiglia. La quotidianità con Chiara non era mai scandita dalle stesse abitudini o dagli stessi compiti a cui badare. Le sue crisi, sui malesseri, sui pianti, sui risvegli notturni e le sue malattie ordinarie tipiche dei bambini alla sua età incidevano sulla possibilità di condurre una vita normale, rendendo ancora più precaria la situazione economica e sociale della famiglia. Dall'altro lato però, ad equilibrare la bilancia, come spesso Michele dice, la gioia delle piccole cose, i valori umani e cristiani, che una bimba di sabbia, come Chiara, ha portato a sperimentare e testimoniare. E infatti, la vediamo proprio in queste immagini, abbiamo scelto di condividere anche questa notizia perché rappresenta veramente la forza dell'umanità, quella di non lasciarsi sopraffare dal dolore e soprattutto di inventarsi e reinventarsi in maniera nuova e creativa proprio per il bene di chi si ama. Insomma, un contrasto veramente a tutto ciò che le notizie oggi, ma in tutti i giorni comunque ci raccontano. Storie veramente brutali, brutte, in cui spesso i genitori e i figli sembrano non avere alcun rapporto. E ancora vediamo le altre testate online, ci spostiamo su Caserta Prima Pagina e vediamo che dalla diocesi di Aversa il 16 aprile ci sarà la conclusione dei corsi della Scuola di Filosofia. E vediamo un'immagine che ritrae il vescovo di Aversa, Monsignor Spinillo. E infatti si concluderà martedì 16 aprile alle 9.30 nella sala Guitmondo del Seminario Vescovria di Aversa all'edizione 2018-2019 proprio della Scuola di Filosofia. Percorso didattico formativo ideato e realizzato da Serra Cleba Aversa, la Scuola di Filosofia diretta dal professore Antonio Serpico, è giunta quest'anno alla settima edizione che si propone di guidare i giovani studenti all'elaborazione di un pensiero autonomo e critico sulla vocazione alla vita e alle scelte esistenziali, alla libertà individuale. Insomma, in quest'ottica si inquadrano anche le tematiche che ogni anno vedono impegnati gli istituti del territorio che partecipano al concorso La Scelta del Tema Monografico dell'edizione 2018-2019 ovvero totalitarismi e dignità umana in Anna Arendt. Insomma, anche questo capitolo si conclude almeno per quest'anno e in questo modo si conclude anche la Rassegna Stampa di oggi. Vi ringrazio per essere stati con noi, vi rinnovo l'appuntamento alla prossima edizione della Rassegna Stampa, vi invito a continuare a seguire Teleprima e tutti i programmi che durante la giornata potrete vedere e soprattutto ringrazio come sempre Tecnocampus che ci offre l'informazione in tempo reale a 360 gradi e soprattutto che ci offre l'opportunità di stare con voi. A voi tutti, buona giornata, da me Giovanna e dalla redazione di Teleprima. Questo programma è stato offerto da Tecnocampus. Grazie a tutti.